Ciao a tutti, come diventare sicuri di sé? In questo video voglio spiegarti come diventare sicuri di sé. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai farmi delle domande precise in apposite live. Ma soprattutto con gli abbonamenti base potrai partecipare alle live e con l'abbonamento seminario online, partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. E adesso veniamo al tema, come diventare sicuri di sé. Allora, è molto importante diventare sicuri di sé. Che cos'è la sicurezza in se stessi? È la fiducia nelle proprie capacità. È un'autovalutazione positiva di sé stessi. È una buona autoconsapevolezza emotiva, la capacità di riconoscere le nostre emozioni. E è fondamentale inoltre diventare consapevoli di sé stessi. Quindi, ad esempio, praticare un buon mindfulness, un buon atteggiamento, diciamo, di centratura nel presente, è fondamentale per diventare sicuri di sé. Non si può diventare sicuri di sé se non si è consapevoli, se non si è consapevoli, ad esempio, del fatto che si vive il momento presente. Questo perché una persona, diciamo, con una forte fiducia in sé stessa correrà, diciamo, dei rischi, diciamo, per raggiungere obiettivi professionali, obiettivi personali. Se non hai fiducia in te stesso, figurati se l'avranno gli altri in te. Quindi, chi non ha fiducia in sé stesso avrà poche probabilità di avere successo nella vita in ogni ambito. Quindi, noi possiamo migliorare la fiducia in noi stessi, possiamo migliorare la nostra autostima, e possiamo, diciamo, quindi avere più possibilità di avere successo nella vita. Quindi, il primo punto è proprio la costruzione dell'autostima. Per iniziare, dobbiamo, per prima cosa, identificare i pensieri che minano l'autostima, quindi i pensieri portatori di disistima. I pensieri portatori di disistima sono, fondamentalmente appartengono a tre categorie. Il pensiero di incapacità, sono incapaci. Il pensiero di impedimento, non riesco a superare questo ostacolo. Il pensiero di sventura, sono sfortunato, sono sfortunato. Quindi, inizia a identificare i pensieri negativi, del tipo, non ci riuscirò, non sono in grado di farlo, nessuno ascolterà le mie idee, la vita è negativa, è tutta una sfortuna. Inizia a renderti conto che questi pensieri diventeranno poi, plasmeranno il tuo destino, plasmeranno la tua realtà. Una volta che hai identificato questi pensieri, quindi questo fa parte della consapevolezza, quello che dicevo prima, essere consapevoli è fondamentale, perché se riesci a sviluppare consapevolezza, riesci veramente a ottenere dei risultati molto, molto importanti nella tua vita. Quindi questo è veramente il primo punto basilare, fondamentale, sul quale devi agire. Il secondo punto è appunto quello di trasformare questi pensieri da negativi in positivi. Dato che hai una consapevolezza dei tuoi pensieri negativi, devi iniziare a convertirli in pensieri positivi. Quindi vuol dire mettere l'antidoto, mettere, diciamo, un antidoto vuol dire mettere pensieri nuovi. Io ci riesco, io ce la faccio, io riesco a superare questo ostacolo. E' esattamente il pensiero contrario. Noi dobbiamo sfruttare un fatto che la nostra mente non può tenere al suo interno due pensieri diametralmente opposti. Per cui se metto un pensiero positivo, il pensiero negativo non è che sparerà, ma non verrà preso in considerazione. Questo è la cosa principale. Poi è importante anche che non vengono immessi dentro di noi i pensieri dagli altri. Quindi dovremmo cercare intanto di diventare consapevoli di quello che dicono gli altri. E per quanto possibile cercare di eliminare, diciamo, dalla nostra vita persone negative, persone pessimiste, persone che diciamo non hanno una positività. Quindi, ecco, queste persone è importante riuscire a eliminarle dalla nostra vita. Elimina tutto ciò che, tutte le persone che ti riportano alla negatività. Ma anche degli oggetti con i quali si hanno ancoraggi emozionali negativi. È molto meglio toglierli. Molto meglio non utilizzarli. Perché potrebbero riportare nella nostra mente delle emozioni negative. Così come i talismani, diciamo così, ci possono portare emozioni positive, altri oggetti possono portarci emozioni negative. È molto importante eliminare tutto ciò che ci ricorda quindi negatività. Secondo punto fondamentale è evitare di fare confronti con gli altri. Noi non dobbiamo confrontarci con gli altri, ma dobbiamo, semmai, confrontarci con noi stessi. A mano a mano che sviluppiamo consapevolezza, non avremo bisogno di confrontarci con gli altri, perché il confronto con gli altri porta a un veleno mentale, che è quello dell'invidia. E concentrati sugli altri ti fa perdere attenzione su di te. Quindi non fare confronti. Ognuno gioca la sua partita, ma noi non dobbiamo, possiamo portare spunto, diciamo, prendere spunto ad altre persone, ma fare confronti è assolutamente sbagliato. Altro fatto fondamentale, devi cercare di eliminare dalla tua vita le esperienze negative, devi cercare di eliminare dalla tua vita i rimpianti, la vergogna, e concentrati su ciò che è veramente positivo nella tua vita. Non fare focus sulla negatività, perché se fai focus sulla negatività, ovviamente tenderai a vivere situazioni negative. E infine, prenditi cura di te stesso, amati, fatti dei piccoli regali, un massaggio, comprati un vestito che ti piace, insomma, coccolati. Ecco, in questo modo la sicurezza in te stessa, in te stesso, aumenterà drasticamente. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, e abbonandoti potrai farmi delle domande alle quali darò delle risposte precise. Ciao a tutti! Ciao a tutti!